8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, via! Buona camminata a tutti! La pistola ha fatto c'è il calma. Non siamo guerra fondai, la pistola a noi non piace, giusto? Le armi non ci piacciono. Buona camminata a tutti! Tenete le mani rivolte verso il cielo che vi fanno un sacco di foto, di video. Passate sotto la nostra postazione con un bel sorriso. E se volete scullettare un po', questa è proprio da muovere il vaccino. Buona camminata a tutti! Da Andrea Caponnetto, lo staff di TRS Radio, Marco, Raffaele, Marta, Valentina, Vanessa, Vivo, Alessandro, il nostro Matteo Peano in console. Buona camminata, vi aspettiamo all'arrivo. Belli sorridenti! Belli sorridenti! Tu, 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 tu eres l'imano!